Divine Queer Film Festival, siamo qui con Vitsandè, una delle organizzatrici del festival, e con Porpora Marcasciano, storica attivista dei diritti delle persone trans. Sandè, sei anni di Divine Queer Film Festival, che cosa ti hanno dato questi sei anni di questa manifestazione? È stata una bellissima esperienza, innanzitutto perché ho conosciuto tanta gente, e ho potuto approfondire tanti temi, quello che il Divine Queer Film Festival tratta, che è appunto la disabilità, la migrazione e il transgenderismo. Porpora, una vita di lotte per i diritti delle persone trans. Siamo ancora, non è ancora passata la legge contro l'omotransfobia, siamo ancora in una società eteronormativa, accisa eteronormativa, cioè una società che comunque è ancora legata al sesso di attribuzione alla nascita, è ancora legata sostanzialmente a un gusto sessuale preciso, oppure le cose stanno cambiando e la politica è lontana dal sentire delle persone. Diciamo che siamo ancora, usiamo questo come, poi che le cose stanno cambiando, le cose cambiano, sempre e comunque, a volte cambiano bene, altre volte cambiano male. Certo il blocco della legge Zan è un cambiamento in male, in negativo, però tante altre cose cambiano, grazie anche a un certo attivismo, come dire, su cui si è costruito, si è costruito tanto, ma altrettanto c'è ancora da costruire. Tu hai detto prima, siamo ancora, e mi ha colpito, siamo ancora a fare, però penso che il principio dell'attivismo è proprio quello, non essere arrivati, arrivare a qualcosa, ma continuare a battersi, perché noi comunque viviamo in un mondo ostile, un mondo, una cultura patriarcale, e quindi tutte quelle che sono le conquiste, poi vanno difese, sia ben chiaro, vanno difese, perché le conquiste non valgono una volta per tutte. E quindi questo, diciamo, ci fa pensare che siamo ancora qui, ma che ancora e ancora continueremo. L'esperienza dei giovani ormai è abbastanza lontana dal sesso maschile e dal sesso femminile, ma vede più il genere come uno spettro, e quindi si sta parlando molto di fluidità di genere. Quindi nei giovani le cose stanno cambiando, sta cambiando un sentire. Beh, è chiaro che sta cambiando, ci mancherebbe altro. È chiaro che la gioventù è questo, no? Raccogliere il nuovo, però è anche fare buon uso del passato, ed è questo il problema. Io oggi ho la sensazione che è come costruendo un palazzo che si sta costruendo e costruendo il piano alto si tolgono i mattoni al piano basso e questo mina il palazzo. Bisognerebbe avere una coscienza, questo è l'invito ai giovani, di tutto quello che è stato fatto, ma non tra quelle di prima, quelle di oggi, no, assolutamente, è un continuum, ma è la storia di tutti, di giovani, anziani, meno giovani, meno anziani, che va costruita. Quindi non è che quello dei giovani debba sottrarre o togliere o prendere le distanze da quello che c'è stato prima, è un continuum. E oggi si fa questo errore, lo dico perché c'è questo errore, no? Il sentirsi oltre e poi alla fine, come dire, lasciare il nulla. E' un po' questo il problema. Sandè, anche tu hai lottato per i diritti delle persone trans a Torino. Torino è una città sensibile ai diritti delle persone LGBTQ? Beh, Torino è sicuramente una città laboratorio, dove qui è nato il fuori, quindi la prima associazione per i diritti degli omosessuali. E qui è nato anche uno dei MIT del 1982, è nato qui. E' stata sicuramente una città molto aperta, molto accogliente, inclusiva. E' sicuramente una città dove le persone trans trovano un proprio spazio. Grazie mille.